Buonasera signore e signori, ragazze e ragazzi. Stasera voglio parlarvi di Cajiva Elefanta 350. Siamo in casa da Cajiva, siamo nel 1985 quando Cajiva produce questo modello che va ad affiancare il modello da 200 cm3 di cilindrata. È una moto che si presenta abbastanza pesante ma anche perché il suo motore è il bicilindrico, come si può intravedere in questa foto, vedete qui il bicilindrico della Ducati, in effetti è proprio il bicilindrico fornito dalla casa costruttrice Ducati. Qui si vede il cilindro anteriore che è inclinato in un certo angolo ma praticamente orizzontale, scusate, qui invece l'altro cilindro in posizione quasi verticale. Quindi come sempre nell'architettura Ducati abbiamo un motore con i cilindri disposti a L, caratterizzati inoltre dalla distribuzione desmodromica, quindi una distribuzione che garantisce precisione nella distribuzione stessa ma anche appunto scarsi attriti, scarse perdite di potenza dovute proprio alle molle, quindi non avendo le molle questo tipo di distribuzione permette di avere un rendimento del motore superiore. Qui travediamo il carburatore dell'orto e quindi un motore che appunto fornisce delle caratteristiche soprattutto di coppia piuttosto elevati, però con un peso abbastanza rilevante. Siamo intorno ai 140 kg, 147, se ricordo bene, kg per l'esattezza. Altra caratteristica, quindi la velocità arriva a circa 149 km orari, quindi una discreta velocità comunque per un mezzo che si presenta, come potete vedere, essenzialmente come mezzo fuoristradistico, anche se naturalmente le ruote che non sono tassellate ma sono dotate di ruote adatte all'uso sia per l'asfalto sia per un fuoristrada non troppo eccessivo, eccessivamente impegnativo, possono comunque andare bene per entrambi gli utilizzi. Altra nota caratteristica è l'ammortizzatore, in questa posizione qui si vede il leveraggio, quindi monoammortizzatore posteriore, una bella forcella anteriore a stelo avanzato, come potete vedere è dotata anche di soffietti. Il parafango che a qualcuno non piaceva, a me non dispiace insomma, questo parafango tipico delle moto fuoristrada. Bella anche la mascherina secondo me con la protezione per il faro che dà appunto un'impronta più da fuoristrada estremo quasi alla moto. Caratteristico insomma tipico ecco del fuoristrada di lunga percorrenza quindi che richiamano insomma le avventure nel deserto, questo serbatoio di generose dimensioni. Bella la sella che può far accomodare anche il passeggero, infatti vedete ci sono le pedane del passeggero. Per concludere c'è anche un bel portapacchi posteriore, sempre utile per il trasporto di eventuali attrezzi o comunque anche di una borsa posteriore o addirittura di un bauletto per viaggi di tipo autostradale in cui la moto può tranquillamente impegnarsi. Per ultimo volevo farvi vedere il telaio che vedete è un telaio doppia culla abbastanza tradizionale però vedete in tubi quadri quindi non ha il solito tubo tondo ma ha questa caratteristica di avere i tubi quadri. per finire i freni di discrete dimensioni appunto non a tamburo bensì a disco sia anteriore ma anche vedete posteriormente. Bene quindi se vi è piaciuto mettete un like, non vi è piaciuto mettete naturalmente dislike, attivate la campanella per essere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale e mettete qui sotto i vostri commenti sempre sempre graditi. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. 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 Grazie.